Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti o bentornati su TotalGames, siamo sempre Duingo Oggi vi porto un video reaction alle abilità di Seraphine Sono state rilasciate le abilità su Surrender to Ending Un sito dove praticamente vengono inserite tutti gli aggiornamenti che fanno su PBE E anche non In realtà vengono messe tutte le notizie appunto riguardanti League of Legends E' stata appunto rivelata Seraphine Anche se sapevamo benissimo che Seraphine sarebbe stato il nuovo champion Anche grazie al suo account Instagram Se è la prima volta che entri nel mio canale ti ricordo che trovo una serie di guide speciali per i champion Ho fatto una serie di guide in generale per quanto riguarda League of Legends E in più streamo anche su Twitch, mi trovi come domingo, trattino basso, dg Tutti i link li trovi in descrizione anche per i miei contatti diciamo Parliamo di Seraphine Allora, Seraphine verrà rilasciata con tre skin Povera Ornn che attualmente ne ha solo una dopo anni dal suo rilascio Verrà rilasciata appunto con la sua skin base La sua skin alternativa E la skin KIDIA Visto che farà parte appunto della nuova canzone delle KIDIA E del gruppo delle KIDIA E avremo altre skin appunto di Aerie e via dicendo KIDIA ovviamente Questa è Seraphine Se non ricordo male verrà rilasciata anche su Legend of Runeterra Probabilmente mi sbaglio ma dovrebbe essere così E queste sono il video alle sue abilità Queste sono le icone Adesso ci vediamo il video Non me lo ingrandisce, ok, fa niente Vediamoci le sue appunto abilità Allora, questa è la passiva E praticamente Usando le abilità O gli adattacchi Seraphine va a dare Va a dare questi stack Ai suoi alleati Che le chiama note Ho visto giusto un po' la descrizione sotto Queste sono appunto le altre abilità La sua passiva praticamente è questa di Creare queste note Questi cristalli su se stessa e gli alleati Queste note andranno a potenziare Seraphine Allora, questa è la sua Q Fa danno puro Sembra un po' Sona Sembra tantissimo Sona Sia esteticamente Sia le sue abilità Questa appunto è la sua Q E questa è la W Allora, la W Io sono andato a leggere solo la descrizione sotto Dovrebbe aumentare la velocità di movimento di Seraphine Dei suoi alleati Li shielda E se Seraphine è già shieldata Li va a curare Questa è la E La E come funziona? Praticamente il primo cast Va a sloware gli avversari Allora, praticamente se lo prendo la prima volta Questa è la E Un solo cast Slowa tutti gli avversari che oltrepassa Se l'avversario è già slowato Se l'avversario è già slowato Viene bloccato Ed è praticamente stunnato e bloccato Ok E questa è la Suprema La Suprema Sharma Gli avversari fa danno E gli alleati dovrebbero aumentare il range di questa abilità Qua, se non sbaglio, dice Che ogni alleato Alleato incluso Diventano parte, diciamo, dello spettacolo Questa ultimamente dovrebbe essere una sorta di palcoscenico E colpendoli aumenta il range dell'abilità Sembra tantissimo Sona Sia per quanto riguarda il gameplay in sé Sia per quanto riguarda proprio il champion Che si trova su sta basetta qui Sto mini, non lo so, palcoscenico Come Sona che usa il piano Allora, queste sono le immagini appunto Delle abilità Questa dovrebbe essere le skin Questa è la skin Key di A All out Quindi tre skin Povero Horn, ripeto Qua sono un po' di immagini Questo è il modello in game Questo dovrebbe essere l'icone Questa è l'emote che verrà rilasciata Queste sono le icone E questo è il bordino Se qualcuno prenderà Tipo Probabilmente faranno un pass Con le Key di A Niente, questo era giusto un video reaction Per quanto riguarda Serafin Farò un gameplay Appena verrà rilasciata sul PBE E nei commenti fatemi sapere Voi cosa ne pensate di Serafin Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti Da Domenico